Penso sia molto presto parlare di generazione dei fenomeni, insomma piano piano sì mi sto rendendo conto, è stata un'estate lunghissima e impegnativa, però è stata molto bella, sono molto orgoglioso, abbiamo chiuso col botto con due medaglie d'oro per tutto il movimento azzurro, non solo per noi e quindi sono molto contento di questo e ripaga tutti gli sforzi fatti qui a Trento con la maglia del proprio club.